Le Spice Girls si preparano a festeggiare un quarto di secolo. Per il 25esimo compleanno la girl band britannica sarebbe in procinto di iniziare le riprese del sequel di Spice World, film diretto nel 1997 da Bob Spires. Secondo quanto riportano i tabloidi inglesi, nella produzione sarebbero coinvolti Jerry Alwell, Melanie C., Mel Brown e Emma Banton. Rimarrebbe da parte la Push Spice Victoria Beckham. Da sempre restia al ritorno della formazione.